Ci sarà anche un incontro tra la rappresentativa del Vaticano e la nuova squadra di calcio A5 formata da soli preti. Il Vangelo attraverso il calcio è il titolo della giornata di sport e solidarietà nata per ricordare la figura di Don Paolo De Grandi, parroco di Campolucci, calciatore professionista, guida spirituale per un'intera comunità e per la Polizia di Stato, scomparso prematuramente a causa di un malore proprio in un campo di calcio nel luglio del 2016. L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, sezione di Arezzo con il patrocinio della diocesi, ha quindi voluto questa giornata di sport per ricordarlo. La struttura sportiva dell'Olmo Ponte ospiterà le partite di calcio A5. Ad affrontarsi saranno la Selecao Sacerdoti di Calcio, Clericus Arrezzium, la Gendarmeria del Vaticano, Amici di Don Paolo, la Polizia di Stato e il calcio Champagne Arezzo. Il suo mantra era il Vangelo attraverso il calcio, che era più che altro uno stile di vita che riusciva ad avvicinare tantissime persone con questo sistema. Abbiamo visto a Campolucci dove lui era parroco, ha creato tante strutture per lo sport, è stato sempre presente anche nell'aretino, nel calcio. Il calcio, a maggior ragione poi, ha creato insieme ad altre persone, credo in Palestina, se non ricordo male, un campo da calcio per i bambini palestinesi. Abbiamo di nuovo invitato i ragazzi della Gendarmeria e loro hanno accettato con molto piacere, anche perché, ripeto, si ricorda un sacerdote calciatore professionista, perché questo ragazzo giocava nel Verona. Questa manifestazione ha, ovviamente, anche uno scopo solidale. Assolutamente, come tutte le cose che organizziamo, i nostri sponsor sanno benissimo che poi alla fine, oltre che un reticonto serio da presentare, abbiamo sempre un fine benefico. Il fine benefico è per la Caritas, anche perché abbiamo la partecipazione del Vescovo, che si impegna molto per questo evento, ed è là il di Arezzo. Il Vescovo lo vedremo dare qualche calcio al pallone, forse ci rispondi. Sì, probabilmente il Vescovo sarà al campo a dare la benedizione sicuramente, non sappiamo se darà il calcio d'inizio, ma potrebbe anche essere di sì, insomma. Tanto è una persona molto presente, per cui è stato il primo ad accettare immediatamente il patrocinio per questo evento. Nel contesto, al campo sportivo, sarà presente anche una delegazione degli amici di Vada di Cortona, con i ragazzi disabili che loro gestiscono, proprio per dar forza alle persone più deboli e aiutare in qualsiasi modo le persone.